Sì, ma stavo per rinunciare. Avresti fatto un grosso errore. Come funziona la cosa? Ecco. Questo qui mi ricorda un meccanico con cui uscivo quando andavo a scuola. E che te ne pare? Un po' troppo bullo. Oh, troppo comune. Questo è carino. È uno dei nostri pezzi migliori. Che tipo è? Ha un corpo stupendo. Sguardo da killer con un sorriso da bambino malizioso. Per me va bene. Aspetta prima di decidere. C'è qualcosa di speciale. È appena arrivato in città. Sembra un tipo spavaldo, ma in effetti è molto romantico. È quello che ci vuole. È tutto tuo. È tutto tuo.